Sono Stefano e sono ricercatori WM. Amo unire lo studio di prodotti che possano impreziosire e proteggere il legno all'impegno per l'ambiente. Considerando che il legno è il materiale naturale per eccellenza, ho pensato di mettere a punto un nuovo rivestimento, più green possibile. Sono quindi orgoglioso di presentarvi la nuova linea NaturalPur, una gamma di prodotti bio che permette di ottenere un film di vernice che contiene fino al 50% di materie prime di origine vegetale rinnovabile, non in competizione con quelle d'uso alimentare. Se volete saperne